Che ore sono, raga? Che ore saranno? 10 e 20, 10 e 25. Che ora è? 10 e mezza? 10 e? 25. Sai che cosa? Che ci starebbe un bel bicchiere di vino, eh? Adesso. Un bel bianco siciliano, corposo, schietto, strutturato. Una cosa così. Ah! Guarda che meraviglia. Cos'è questo? Aspetta, no, non ditemelo. Lo so che me ne intendo, cazzarola. Questo è un donna affugata 2013. Potrebbe anche essere un etna bianco del 2012, un moscato di pantelleria 2010. Colore ambrato, giallo dorato, tonalità intensa. Ci sono! Questo è un acqua del rubinetto di Gela del 2015. Porca puttana. Emergenza acqua, arrivano i tre giorni ed è giallastra, Gela come Messina. No, scusa, fatto quotidiano. Ma Gela come Messina è una boiata. A Messina l'acqua non arriva a giallastra. Magari arrivasse a gialla, rossa e verde, la berebbero anche a Poa. A Messina l'acqua non arriva proprio. Tre settimane fa si è rotta la conduttura dell'acqua, l'hanno aggiustata, ma si è rotta di nuovo. Messina ancora senza acqua, fatemelo vedere. Messina ancora senza acqua, bypass riparato, ma resta l'emergenza. È passato quasi un mese e siamo ancora messi così. Fatemelo vedere. Eccolo qua. Pensate che in Namibia hanno visto questa foto e hanno iniziato una raccolta fondi. Namibia for Messina. E invece questa è la Calabria, me la fate vedere? La Calabria dopo l'alluvione dieci giorni fa. Guardate. Allagamenti e frane. Cioè dopo un po' di pioggia da una parte dello stretto non c'era acqua e dall'altra ce n'era troppa. E poi voi volete fare un ponte. Renzi, il ponte sullo stretto di Messina si farà. Ma fate un tubo, cazzo. Senti come suona bene? Partiti i lavori per il tubo sullo stretto. In Italia in questo momento ci sono quasi 500.000 frane censite. I 499.000 sono smottamenti censiti in Italia. Sono il 69% di tutti quelli mappati in Europa. Il 69%! E vai, cazzo. Su dieci frane che ci sono in Europa, sette sono le nostre. Le frane in Italia le abbiamo portate noi. Finalmente su qualcosa in Europa siamo leader. E poi ci lamentiamo che il paese è immobile. Ma che minchia dite! Immobile! Se fra un po' a forza di scivolare finiamo in Libia. Siamo noi che andiamo a aiutarli a casa loro? A cavallo delle montagne? Ma la colpa delle frane non è mica della pioggia. Sì certo sarà anche colpa della politica. Però non solo. Da quando sono nato io la popolazione italiana è cresciuta del 26%. Sapete di quanto è cresciuta l'urbanizzazione? Dunque aumenta la popolazione il 26%. Aumenta l'urbanizzazione il 367%. Dagli anni 50 in Italia ogni bambino che è nato si è portato dietro dieci imprese edili. Da noi bambini non li porta la cicogna, li porta direttamente la gru. Ci lamentiamo delle frane? Ma guarda, guarda dove siamo andati a costruire ragazzi. Fatemi vedere dove siamo andati a costruire. Guardate, in Italia per 50 anni ovunque ci fosse un dirupo, un torrente, un crepaccio c'era anche un geometra che prendeva le misure. Architetto, qua mi sembra buono, l'acqua corrente c'è già, basta metterci delle mega zanzariele per nutri. Cioè, diciamo la verità, il dissesto del territorio un po' ce lo siamo andati a cercare, ci siamo fottuti con le nostre mani, senza nemmeno chiedere per aiuto alla più grossa multinazionale del settore.